Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parole di Pergoué. Grazie a tutti. 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 reputazione greca, si è in realtà cominciata a contagiare anche l'Italia, il Portogallo, la Spagna, ma anche verso il nord, anche l'Irlanda è contagiata con questa reputazione da cicale e tutti quelli fondamentalmente che hanno dei problemi adesso sono appunto delle cicale pigre e spendacione. Il pacchetto di salvataggio della Grecia è stato associato a questa propaganda secondo la quale appunto l'Eurozona è ormai divisa in due regioni, pieno di formiche operose del nord ed invece di pigre cicale del sud. E adesso con i giorni dell'estate mediterranea alle nostre spalle, ora che sono scomparse tutti i nostri sostegni e supporti, abbiamo l'inverno del nostro scontento dovuto alla pigrizia di queste cicale. E questa è ormai l'immagine che si sente divulgare in Europa. Voi cicale povere state bussando adesso alla porta delle operose formiche col cappello in mano pregando di essere salvate. E le formiche sono ovviamente poco disposte, ok ti diamo un po' di soldi però se ti comporti bene, se prometti di cambiare. E cosa ci dicono in realtà? In un qualche modo i semi che le formiche hanno messo da parte per i giorni invernali sono messi a repentaglio dalle cicale che hanno goduto per tanto tempo. Senz'altro avrete sentito raccontare questa stessa metafora più e più volte. Nell'ultimo anno il problema con storie di questo tipo per quanto interessanti e appetibili è che in realtà non aiutano, non fanno capire. Oggi pomeriggio pertanto vorrei sostenere che questa favola di Esopo in origine per quanto possa essere interessante in realtà causa più problemi che soluzioni. E perché dico questo? Perché le formiche e le cicale si trovano dappertutto, si trovano in Grecia, si trovano in Italia dove esistono persone operose che lavorano, come peraltro ci sono anche degli pigroni, spendacioni in Germania, in Austria, in Olanda. Eppure abbiamo pensato che tutte le formiche fossero nel nord, tutte le cicale fossero a sud e abbiamo introdotto dei rimedi assolutamente tossici per porre rimedio a questo problema. È vero, è vero assolutamente che la crisi ha posto un onere assolutamente eccessivo sulle spalle delle formiche europee. Sproporzionato. Però queste formiche non è che siano per forza tutte tedesche, austriaco, olandese. Né tutte le cicale sono per forza greche, italiane o spagnole. Alcune formiche sono tedesche, però ci sono anche delle formiche italiane. Ciò che unisce tutte le formiche europee del nord e del sud, est e dell'ovest è che tutte hanno lavorato, hanno lavorato all'acremente per arrivare alla fine del mese nei momenti buoni e lavorano ancora più all'acremente per arrivare nei momenti difficili. Le cicale, altrimenti definite, altrimenti note con il termine banchieri e tecnocrati sia nord che a sud, hanno sempre vissuto una gran bella vita prima e tuttora la stanno vivendo una gran bella vita. Sono, come sempre, ben desiderosi di privatizzare qualunque vantaggio possano avere e socializzare le perdite, distribuendo queste perdite sulle formiche che lavorano. Come ho detto, vi è stato detto che siete appunto un mucchio di cicale che vivono al di là dei loro mezzi. Questa è una narrazione che, diciamo, si è vista prevalere negli ultimi due anni e questo è ciò che i tedeschi in particolare continuano a dire e ci sono riusciti comunque. Per cui anche in questo grande e orgoglioso paese molti ci credono. Avete questa idea molto bizzarra, peraltro, che siete stati cattivi e che pertanto meritate di essere puniti. È una sorta di sindrome di Stockholm, o forse in questo caso lo dovranno chiamare sindrome di Berlino. Ma non è vera. E non appena capiamo questa cosa, allora avremo una rapida possibilità di mettere in sesto un piede una serie di riforme in cui smetteremo di salvaguardare gli interessi di banchieri corrotti e di tecnocrati completamente separati dalla realtà italiana e di altri paesi d'Europa. In Italia, così come anche in Germania, avete tante persone che lavorano e che lavorano sodo in tanti contesti, come ha detto Alene e altri hanno due lavori, anche più, che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese a causa di retribuzioni così basse, a causa di condizioni di sfruttamento scandalose e a causa dell'inflazione che è molto superiore a quella ufficiale, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro. I prezzi degli alimenti, i beni di base sono aumentati e a causa di ciò la popolazione si è indebitata di più e pertanto hanno contratto dei mutui, dei debiti per occuparsi dei figli. Cose che ci dicono non dovrebbero in realtà creare un problema, invece no, sono cose che creano grosse difficoltà. Ora, arrivata poi la crisi, diversi di noi e fra di voi hanno perso il lavoro, però i mutui andavano pagati, pure le tasse sono anche aumentate e in alcuni casi alcuni hanno dovuto anche pensare all'ipotesi di vivere senza la luce perché effettivamente non riuscivano più a pagare la bolletta. Ora, le prospettive di queste famiglie sono crollate, eppure vengono dipinte come i cattivi, i cattivi della favola, la causa dei problemi dell'euro. Anche in Germania, ho detto prima, ci sono senz'altro le formiche, ma anche qui ci sono persone che lavorano, ci sono tante persone anche in Germania che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, prima e dopo la crisi della zona euro. Ci sono persone la cui produttività è aumentata, ma le cui retribuzioni non sono aumentate perché c'è stato un trasferimento di capitale enorme dai lavoratori ai produttori. Gli utili sono saliti alle stelle negli ultimi anni in Germania per le aziende e questo ha portato a delle eccedenze la cui dimensione è aumentata in seguito alla redistribuzione del reddito che si è allontanato dalle formiche tedesche verso il loro datore di lavoro, grazie soprattutto alle esportazioni tedesche che hanno garantito questo tipo di guadagni. Ora, queste eccedenze commerciali una volta create hanno cercato di ottenere remunerazioni più alte, reddite più alte, perché in Germania in effetti i tassi di interesse erano bassi. E a questo punto le cicale tedesche, cioè questi banchieri, il cui obiettivo era quello di massimizzare i loro guadagni a sforzo zero, si sono rivolti verso il sud, verso la Grecia, verso l'Italia, hanno rivolto la loro attenzione verso il Portogallo o anche l'Irlanda. Siamo tutti nella zona euro e abbiamo ancora il problema dell'arbitraggio delle tassi di interesse e il problema dei mutui garantiti da carte di credito, dei debiti. Abbiamo capitale tedesco prodotto dai lavoratori pagati poco, tedeschi, e comunque gestito dalle cicale tedesche i capitali che volano verso il sud alla ricerca di remunerazioni superiori. E cosa accade quando questo denaro arriva inaspettatamente verso il sud? Beh, ci sono delle bolle. È semplice. In Spagna questo ha assunto la forma di una bolla immobiliare. In Grecia la bolla si è manifestata sotto forma di debito pubblico, perché le cicale greche, che sono in realtà gli investitori immobiliari greci, sono stati ben contenti di prendersi i capitali arrivati dalla Germania e in realtà hanno potuto godere di contratti assolutamente favolosi, grazie ai finanziamenti. Ora, la forma che poi le bolle nei paesi meridionali hanno assunto non è importante, perché comunque esploderanno prima o poi, quando le uber cicale di Wall Street scoppieranno anch'esse. Però quella cosa importante è che le formiche tedesche capiranno che il loro lavoro duro non si trasforma in una vita migliore, ma in minor potere d'acquisto. Poi è arrivata la crisi, le formiche tedesche si sono sentite dire che devono stringere la cinghia in un momento in cui ricadono sempre di più in una trappola della povertà. Allora è stato detto che il loro governo inviava migliaia di miliardi, i cosiddetti pigs, la sigla bui germaiali in inglese, che sono il Portogallo, l'Irlanda, l'Italia, la Grecia e la Spagna, che secondo le formiche tedesche sono le cicale pigre. Però non è mai stato detto a questi che in realtà il governo greco o spagnolo non può usare i propri fondi a scopo benefico, per così dire, lo può fare soltanto per ripagare i debiti, in modo tale da ridurre, per così dire, le sofferenze per le cicale. E quindi queste formiche erano stupite, le formiche tedesche. Perché si sono chieste? Stiamo lavorando così tanto e più di prima. E guadagniamo anche meno fondi, meno soldi. Perché il nostro governo manda dei soldi a questi spendacioni del sud e non li conserva per noi? Allo stesso tempo qui in Italia, ma anche in Grecia, ma anche in Portogallo, i lavoratori, quelli che lavorano, le formiche, si sono trovati in una fase di disperazione, ma anche di rabbia, perché le cicale di questi paesi, che comprenderebbero i banchieri, ma anche i cosiddetti tecnici, come anche il signor Monti e Draghi, li hanno insultati, chiamati in tutti i modi, e si sono uniti, diciamo, alla narrazione dominante. In effetti, nel Wall Street Journal di ieri, Draghi ha lanciato un attacco straordinario contro lo Stato e il welfare. E ha arrivato a dire che il welfare state è stato e rimane la fonte dei principali problemi dell'eurozona. Quindi abbiamo avuto un cambiamento assoluto nella narrazione oggi predominante, non più come accadeva subito dopo il 2008, erano le pratiche delle banche che prestavano a tutti, che sbagliavano e creavano assolutamente dei prodotti assolutamente improbabili, come gli swap per il default del credito, non erano più loro ad essere colpevoli. Grazie a persone come il Presidente Draghi, la Cancelliera Merkel e il Presidente Monti, praticamente tutti i cosiddetti esperti dell'Occidente adesso sostengono che la crisi è stato un problema di eccesso di spesa pubblica e che l'incapacità di risolvere questo problema farà crollare la civiltà per come la conosciamo oggi. Probabilmente adesso vi starete grattando la testa e dicendo che ci deve essere un errore da qualche parte. Io in effetti non ho mai goduto nel modo in cui invece i nostri amici banchieri hanno potuto fare. Voi avete lavorato, avete fatto fatica prima, avete lottato prima e adesso lottate ancora di più, in condizioni ancora più difficili. Per quanto riguarda i salvataggi, i bailout, voi e i vostri vicini dell'Adriatico, i greci, non li vedete questi salvataggi. Nessuno vi dice che in realtà le migliaia di miliardi sono finiti nelle banche. Loro sì, non solventi dell'Europa che hanno appunto gettato denari in un pozzo nero. E inoltre avete, appunto, cornuti e mazziati perché avete anche i tedeschi che vi chiamano ladri, corrotti, spendaccioni, esagerati. E a questo punto è un po' fatica a non ritornare alla memoria collettiva che ci farebbe diventare antitedeschi. Ma quando l'euro è stato istituito è stato un esperimento molto interessante che ha avuto luogo sia in Grecia che alla periferia. In Germania i governi, i datori di lavoro, i sindacati, tutti hanno cercato di ripristinare la concorrenzialità, la competitività tedesca, l'occupazione e la crescita, dicevano anche, riducendo i salari e riducendo anche l'inflazione tedesca al di sotto della media europea. Nel frattempo, in paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna e l'Irlanda, i governi dell'epoca cercavano di far fronte per preparare il paese per accedere all'euro, anche in questo caso riducendo le retribuzioni e avvantaggiantosi dell'influsso di migranti da altri paesi nel paese per ridurre ulteriormente tali retribuzioni. Ora, qui in Italia c'è stata però un'altra cosa. E c'è stato un bellissimo articolo scritto da Gustavo Piga, un vostro connazionale. I vostri conti pubblici erano stati assolutamente sottostimati attraverso l'utilizzo di una serie di derivati di Wall Street che avevano mascherato la vera entità del debito pubblico. E mi affretto a dire che l'utilizzo di questi prodotti era stato approvato però sia dall'Eurostat che anche dal Tesoro. E chi era il principale funzionario della gestione dei debiti al Tesoro all'epoca? Probabilmente lo saprete già, comunque ora lo svelo. E' giusto, era Mario Draghi che poi dopo è passato alla Goldman Sachs dove ha aiutato a privatizzare o comunque a favorire i redditi delle banche privatizzando i beni nazionali italiani. Gran bel lavoro se uno riesce ad arrivarci. In Germania l'esperimento di ridurre i benefici, i benefit e l'attribuzione attraverso le riforme che avevano preso il nome del precedente capo della Volkswagen è un esperimento che ha avuto gran successo e ha andato anche oltre le sue aspettative. Le retribuzioni reali ci sono ridotte. Più e più volte la disoccupazione si è ridotta anch'essa però i lavoratori guadagnavano sempre meno e non riuscivano neanche a comprare quei meravigliosi scintillanti beni che realizzavano nelle fabbriche. I beni tedeschi hanno peraltro inondato anche altri mercati europei al contempo però il successo tedesco aveva fatto sì che il denaro fosse ancora meno costoso e quindi rendendo il ricorso al credito sempre più semplice in tutti i paesi compresi i paesi del Mediterraneo e quel denaro che costava poco quando il tasso di interesse è basso veniva usato per comprare merci tedesche. In altri termini la vostra cosiddetta tendenza alla spesa eccessiva ha aiutato a sostenere il surplus, l'eccedenza commerciale tedesca che ha permesso loro di avere un deficit di bilancio sempre minore però le formiche tedesche lavoravano per essere pagate sempre meno a differenza invece delle loro banche. e per un po' tutto questo ha funzionato. Una volta che la quantità di denaro che veniva dalla Germania a basso del suo interesse che veniva dalla Germania e da Wall Street ha permesso agli italiani, ai greci e ai spagnoli di spendere e l'hanno fatto come se non ci fosse alcun domani e chi li può riproverare, la tentazione è enorme. Ma il problema era che ogni volta per gli italiani, per i greci, per i portoghesi quando questi chiedevano qual è il vantaggio di far parte dell'Euro beh in realtà l'idea diceva guarda no bisogna andare avanti così bisogna anche chiedere dei prezzi alle banche per continuare a mantenere il nostro tenore di vita perché di più non possiamo permetterci. Quindi e a questo punto le cicali italiane ma anche quelle tedesche si sono ingrassate sempre di più mentre le formiche hanno continuato a lottare in condizioni sempre più difficili per arrivare alla fine del mese. E poi c'è stato il crollo di Wall Street nel 2008 e quando c'è stato questo crollo che si è trasferito oltre l'Atlantico prima ha colpito le banche e poi le finanze pubbliche dell'Eurozona. Io ritengo sia importante riconoscere il fatto che le banche sono state colpite per prima questa crisi non è stata causata da un eccesso di spesa da parte dello Stato quindi ovviamente quando poi questo finanziamento si è venuto a ridurre il mercato dei titoli di Stato ha cominciato a porse delle domande sulla solvibilità degli Stati della zona Euro e il primo a essere diciamo coinvolto è stata la Grecia e ci è stato detto che in realtà era un unatantum ormai la Grecia l'avevamo salvata ma in realtà la realtà appunto è che le forze speculative del capitale si stanno dirigendo tutte verso Lisbona e dopo che si saranno occupate di Lisbona credo che arriveranno in Spagna e in Italia. L'Euro non doveva funzionare così però qualcuno doveva essere rimproverato perché non si può in effetti ammettere un fallimento di questo tipo troppe persone come Monti e come Draghi sono assunte in merito del successo dell'Euro che non possono ammettere di aver avuto torto pertanto hanno tutti trovato comodo trovare qualcuno a cui dare la colpa e a fomentare il nazionalismo improvvisamente c'è stata come una guerra fra il nord e il sud, fra i greci e i tedeschi adesso nessuno dice di voler salvare qualcun altro nessuno dice di voler essere salvato e ovviamente in tutto questo i profitti delle banche non vengono presi in considerazione. Ora come voi sapete tutte le favole di Esopo hanno una morale a molti molti pensano alle favole di Esopo come dei racconti morali che in realtà dovevano combattere contro la cidia e contro la incuria del futuro in realtà c'è ben altro Esopo in realtà lanciava un allarme contro anche l'eccesso l'eccessivo atteggiamento di entrambi oggi c'è un'altra cosa che va aggiunta comunque rispetto alla morale di Esopo nella sua favola e cioè le cicale e le formiche sono assolutamente diffuse in tutti i paesi in paesi che condividono un sistema monetario peraltro progettato malissimo in un sistema che mette tutti gli uni contro gli altri in cui un sistema da cui possono emergere solo dei perdenti quindi l'unica opzione che abbiamo a disposizione è cominciare a sovvertire questa narrazione dominante dobbiamo riconoscere adesso la coesistenza di formiche trascurate in Italia in Germania e sapere che ci sono delle viziatissime cicale in Italia ma anche in Germania se cominciamo a riconoscere questo questo è già un buon punto di partenza e a quel punto potremo cominciare a lavorare verso un sistema che promuove la crescita l'occupazione e non dei salvataggi continui a favore delle banche e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione